Ben ritrovati a tutti, state seguendo il progetto scripta da quando l'ho presentato? Perché si sta evolvendo parecchio, oggi vi vado a presentare un progetto che stanno portando avanti, più che altro è un contest. Ho già fatto introduzione a questa blockchain e a questa moneta che è poi l'Ira e l'infrastruttura che stanno creando per la creazione di dApp e per la gestione di, in qualche modo, una sorta di database distribuito su una blockchain, quindi un salvataggio principalmente in IPFS, dei vari dati che vengono strutturati sulle dApp che possono essere eseguite direttamente appunto legate alla blockchain di scripta, quindi un use case concreto potrebbe avere tantissimi utilizzi. Voglio farvi ben due annunci questa volta, in un video molto molto breve. Il primo è che sono ufficialmente diventato un membro del team scientifico di scripta, quindi sono entrato nello Scientific Advisory Board di scripta con il quale si vorrà gestire tutto l'aspetto legato un pochino alla parte più tecnica con altri membri altamente qualificati. Andremo comunque a valutare i progetti che verranno sviluppati, quindi anche tutte le dApp che verranno sviluppate. Ricordo che questo è un progetto open source, quindi chiunque può usufruire di quello che scripta ha messo a disposizione e costruire la propria applicazione decentralizzata su questa struttura qui. Quindi c'è tutto un team, oltre ad esserci anche una foundation nata a Malta da poco, che andrà poi a gestire sia dei fondi che tutto un tipo di sviluppo a seguire tutto quello che è un ecosistema che si potrà creare insieme a scripta. Ma la cosa di cui voglio parlarvi oggi è di questo contest. In pratica c'è un contest per il quale la foundation mette in palio dei lira per premiare le migliori idee, quindi un concorso per le migliori idee e i migliori progetti che vengono sviluppati su blockchain scripta. Questo contest ha l'hashtag Blockchainize, lo trovate comunque su Twitter e vado anche a linkarvelo direttamente a questo video in descrizione. Andiamo un attimo a vedere quali sono i dettagli velocemente. La scripta foundation con la partnership di Assocoin, Bitcoin Sardegna e Turing Labs annuncia questo contest che è Blockchainize. È un concorso di idee con il quale si intende premiare i migliori proof of concept e MVP, quindi Minimum Viable Product, sviluppati per la realizzazione di DAP su blockchain scritta. Quindi se avete, questo è più che altro un messaggio rivolto a sviluppatori ovviamente, se avete un progetto, se avete intenzione, un'idea e volete realizzarla su blockchain, questo è il momento giusto perché se provate a realizzare la vostra idea su blockchain scritta, trovate tutti i riferimenti che vi lascerò comunque in descrizione, avete la possibilità di vincere in palio quelli che sono al momento 20.000 lira. Vi faccio vedere subito il corrispettivo. Abbiamo qui su CoinGecko, al momento l'ira è anche a rialzo, sono ben al tasso di cambio attuale 3.340 dollari. Ovviamente il tasso di cambio è variabile, sappiamo come funziona sull'ecrypto, però bene o male l'ira si aggira sempre attorno ai 10 centesimi dollari, adesso è un pochino più a rialzo e sono ben 3.340 dollari. Non male direi come premio. E in più c'è anche tutta l'assistenza necessaria per far rilasciare poi la DAP in una fase beta, quindi è un valore aggiunto. In più c'è un ulteriore premio di 5.000 lira che verrà assegnata all'idea più originale. 5.000 lira che sono ben 800 dollari, 235 dollari, non so se prima ho detto euro. Cioè l'equivalente che sto facendo vedere in dollari, il premio sarà in lira, direttamente dalla lira foundation, dalla scritta foundation. Quindi qui ci sono gli esempi delle idee sulle quali si può sviluppare, quindi identità digitale, supply chain, logistic, certificazione e copyright, industria, IoT, salute, ricerca scientifica, fintech, payments e e-payments, game and entertainment. Quindi tutti questi topic possono essere sviluppati su DAP. Il contest dura circa un mese, io ve lo sto annunciando solo ora, ma è iniziato il 13 maggio e finirà il 20 giugno, dove il 21 si darà l'evento finale, quindi la premiazione, che si darà a Cagliari in data appunto 21 giugno 2019. Quindi un grande evento anche per la premiazione, secondo me è veramente una bella idea questa di scritta e una bella iniziativa. Qui ci sono tutte le regole su come funziona, basta seguire poi questo link, si verrà ridirezionato direttamente a questa pagina dedicata e qui si può fare poi l'application per poter partecipare. Comunque sia, trovate tutti i riferimenti sempre in descrizione, c'è poi dal sito principale di scritta qualsiasi tipo di tool disponibile per lo sviluppo. Se avete bisogno di supporto, andate ovviamente sul server di Discord. Sul server Discord trovate tutte le chat, le room necessarie per un'eventuale assistenza. Inoltre, parlando proprio di server Discord, adesso mi cade l'occhio qui su questo bot qui, Cayo Titus. Per chi è su CoinSquare l'avrà già notato, Cayo Titus è stato invitato anche su CoinSquare, quindi sarà possibile anche scambiarsi dagli utenti, sia di questa community, sia di quella di CoinSquare, di scambio di lira, anche per fare delle tip, magari vi piace un commento, un report, uno studio di un utente sul server, potete fargli un tip, quindi una mancia, di magari una lira tramite Cayo Titus, cioè basta chiamarlo, vedere le istruzioni. Se quella persona non ha un wallet, addirittura il bot gli va a creare il wallet e prende in automatico, fa una transazione dal vostro wallet lira a quello di quella persona a cui avete tippato. Secondo me è una cosa molto carina che ho visto raramente, tra l'altro il bot, attenzione questa è una cosa veramente particolare, è attivo anche su Twitter, quindi andate un attimo a cercare su Twitter, addirittura riceverete dei lira se andate a condividere, ritwittare dei contenuti su Twitter da parte di scritta. Questo vi lo lascio a voi come studio. Tengo il video super corto, vi ringrazio, quindi andate a vedere questi riferimenti che vi lascio per quanto riguarda questo tipo di contest, se siete sviluppatori non perdete questa occasione. Ciao a tutti, poi farò degli approfondimenti un po' più dedicati su aspetti tecnici legati a scritta e l'ira, che continuo a progredire, quindi dateci un occhio. Ciao a tutti!